Il convegno internazionale che si terrà a Torino, non dobbiamo riconsiderarci, diciamo così, dei scienziati, ma allo stesso tempo non possiamo considerarci dei bronchi. Però è paradossale che noi stiamo vivendo una parte di modifica, di sperimentazione rispetto a questa materia che non ha sconto negli ultimi mesi, viste anche le numerose evoluzioni con l'architetto naturalmente anche particolarmente affascinato. E siamo passati dal convegno mondiale di Detroit, di Torino, a un regolamento edificio del Comune di Cattoria, che è il 39. Quando, in queste serie, insomma, discutendo con l'architetto napoletano, dicevano che abbiamo regolamento edificio che, in particolare, apprezzano le convinzioni per essere modificate, nel quale sono dei punti di rifugi antiaerei. E' ovviamente il 39, quella che era, ovviamente, la concessione della società di quel periodo, che doveva, ovviamente, prevedere anche, in un'architetto napoletano, tra quelli che erano i rifugi antiaerei. E quello che è importante, e quello che sarà importante, negli ultimi prossimi, sarà stabilire un progetto di normalità. Non negli eccessi che possono apparire in questo momento il convegno di Torino, ma, allo stesso tempo, gli eccessi negativo, che, per troppi, anche, sono verferrati rispetto a una materia così importante, così affascinante e anche così delicata, come giustamente, si diceva, prevedenzialmente, dell'umanità. Ovviamente non possiamo non ringraziare anche tutto questo lavoro, il primo cittadino, che si vedrà nel vero o nel mare, così, ai vostri l'acqua a lentezza, a capo di uno strumento urbanistico, che noi ci auguriamo sia modificato sempre di più nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ma che sicuramente ha rappresentato l'inizio di questo cambiamento. Prego, Sindaco.